Ciao, oggi vi porto con me in una passeggiata nei boschi vicino a casa mia. La giornata è iniziata un po' nuvolosa ma per fortuna grazie al vento le nuvole sono state spazzate via ed ora c'è un bel sole. Cercherò di fare qualche fotografia a fiori o di insetti che trovo lungo il percorso. La giornata è iniziata un po' di pezzi e un po' di pezzi e un po' di pezzi. Ho camminato circa un'oretta in salita e adesso mi sono fermato un attimo in questo posto a rilassarmi. Lungo il percorso sono riuscito a fare qualche ripresa di alcuni fiori e anche di una lucertola che ho incontrato. Penso di fermarmi qui qualche minuto e poi proseguirò verso monte per cercare un luogo da cui fotografare il tramonto. Non so se il microfono riesce a catturare tutti i suoni, ma in questo momento ci sono tantissimi uccellini che stanno cantando e c'è un'atmosfera davvero bella. Dopo aver camminato un'altra mezz'oretta fuori dal sentiero sono riuscito a recuperarlo e adesso salirò un attimo su quella montagnetta dove monterò il treppiede e aspetterò il tramonto. Il sole pian piano sta calando, tra circa mezz'oretta ci sarà il tramonto, quindi adesso inizio a preparare il treppiede e monterò il teleobiettivo sulla sony per vedere se riesco a fare qualche ripresa interessante. Speriamo! Questa è la fortuna di abitare in un paesino di montagna. Il sole è calato alle mie spalle, quindi adesso smonto tutto il l'attrezzatura e mi incammino verso casa prima che faccia troppo buio. Spero che questa piccola passeggiata nella natura ti sia piaciuta. Ne arriveranno presto molte altre, quindi spero di rivederti. Ciao! 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 Ciao!